Nel piazzale antistante l'ingresso della questura alla presenza del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, è stato inaugurato il monumento ai caduti della polizia di Stato, ideato e creato dai giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. La scelta dell'opera è ricaduta sul progetto di Andrea Previtali, studente di scultura monumentale dell'Accademia. La scultura innanzitutto è stata pensata per essere posta come monumento per l'anniversario 110 della questura di Brescia ed è un monumento dedicato ai caduti della polizia. Il monumento è stato creato partendo dalla pietra, dal marmo di botticino, tipica di Brescia, simbolo quasi di Brescia, e da questa sottile lamina di corte, che è un acciaio, che viene posto parzialmente su questa struttura a richiamare un guscio, una pelle, un involucro, che poi una volta rotto e tagliato fa sì che emerga il bianco intonso del botticino. Ecco, questo è un richiamo anche all'ulivo che c'è accanto, che può essere paragonabile alla corteccia, ai frutti e alle foglie dell'ulivo, che insieme creano questo senso di pace o comunque rinascita e di spinta anche verso l'alto, data da queste cose. Sono stati inoltre proiettati alcuni video sempre realizzati dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia, nel quale sono evidenziate le foto e i documenti che ripercorrono i 110 anni di storia della polizia di Stato a Brescia. Questa unione possiamo dire che nasce per la natura stessa delle nostre istituzioni. La questura che promuove la sicurezza e di conseguenza anche la libertà dei cittadini della nostra città. L'Accademia Santa Giulia è anch'esso un'istituzione di alta formazione e quindi tutti abbiamo a cuore, loro e noi, la promozione della crescita sana e sicura di tutti i giovani e quindi di tutti i cittadini di oggi e di domani. Questo è ciò che ci accomuna ab origine, potremmo dire. Quello che ci accomuna nella fattispecie specifica è stata una prima interlocuzione che abbiamo avuto direttamente con il signor questore Giovanni Signer che ci ha in qualche modo provocato, provocato in senso elettorale, cioè ci ha chiamati a vocazione dicendo ma in occasione del 110mo anno della questura ci aiutate a farci vedere, a mettere in evidenza come i giovani possono leggere il lavoro della questura e quindi degli agenti della pubblica sicurezza nella nostra città. Lo potete fare con la vostra arte e da lì quindi è nata la realizzazione di un progetto concreto che vede protagonista la questura con i suoi 110 anni, ma sicuramente anche i nostri ragazzi che hanno realizzato il monumento che oggi viene inaugurato a commemorativo dei caduti delle forze di pubblica sicurezza ma che guarda anche al futuro. Il ridisegno della facciata della questura di San Polo perché era desiderio del questore rendere anche l'immagine della facciata vicina alla cittadinanza così com'è il servizio che la questura opera nei confronti dei cittadini e la realizzazione di una mostra che sarà visitabile in Salone Vianvitelliano per i prossimi 15 giorni che ripercorre con lo sguardo dei giovani 110 anni di vita della questura ma visti dal punto di vista dell'uomo dietro la divisa cioè della gente che prima di tutto è uomo, è persona umana quindi una mostra che ripercorre foto, documenti e che realizza dei video proprio dedicati a tutto questo. quindi tre progetti importanti supportati anche dalla scuola di grafico con tutta l'attività grafica e quindi un'azione che ha messo in gioco tante scuole dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia in servizio di terza missione alla nostra città.